ciao benvenuti in questo webinar che affronta sempre nel quadro del tema della creatività affronta quello che io ho chiamato il photographic foto staccato graphic ora questa è una tecnica che non so se ho inventato io spero di sì mi piacerebbe poterlo dire non ne ho viste altre e ve le insegno volentieri se poi in realtà non l'ho inventata io e pazienza non ha nessuna importanza l'importante è che voi possiate creare e insegnare anche i vostri ragazzini a operare nel modo in cui adesso vediamo quali sono le applicazioni che utilizziamo le applicazioni che utilizziamo sono adobe photoshop fix adobe photoshop mix vedete queste due poi utilizziamo adobe draw nel frattempo vi farò buttare l'occhio su lightroom che un'altra applicazione per dispositivi immobili gratuita che viene fornita da adobe serve per lo sviluppo delle fotografie allora partiamo da photoshop fix perché partiamo da photoshop fix perché cerbero ha preparato una lezione proprio cerbero la preparata per voi allora qui riconoscete riconoscete un personaggio molto importante che riguarda la scuola e vabbè è uno scherzo ovviamente è in questa versione come è più carina in questa versione può darsi comunque uno scherzo che mostra che le varie cose che possiamo fare con adobe photoshop fix scusate vado a chiudere la finestra dai che già è carina dai va bene invece cerbero che cosa fa cerbero 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 si pone qualche problema di tipo morale perché cerbero è una figura istituzionale come avete visto quindi non è che possiamo a scuola presentare delle immagini di questo genere vi pare però anche lei voglio dire andare in giro in questo modo non mi sembra una una buona cosa no che dite allora dobbiamo dare una regolata dobbiamo dare una regolata a mary di moro e quindi che cosa facciamo vedete che qui in basso abbiamo una serie di opzioni e naturalmente dobbiamo parlare di correzione dobbiamo correggere questo questo abbigliamento quindi usiamo la funzione di correzione cosa facciamo con la funzione di correzione prima di tutto stabiliamo qual è il timbro quindi sempre qui sotto vedete che c'è questa funzione clona timbro funziona in questo modo prima di tutto devo stabilire l'area da clonare per esempio questo bottoncino qua così ecco questo bottoncino è l'area da clonare dopodiché tratteggio l'area invece che deve essere clonata con questo bottoncino e quindi dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere questo questa scollatura che è proprio veramente come possiamo dire a morale non va bene questa cosa non so se i maschiti che sono presenti approvano quello che sto facendo però dai ecco tra l'altro vi devo dire che mi ha cercato mi ha cercato armani perché ha visto che sono molto bravo a fare queste cose e quindi mi ha offerto un lavoro però a me non interessa entrare nella moda adesso cloniamo un'altra parte perché anche le spalle secondo me cioè ragazzi un po di decor no cosa dite voi quindi io farei così coprire la spalla ecco guardate se non è meglio è anche carino e anche carino cioè questi stilisti americani secondo me detto fa noi non capiscono proprio una mazza invece italiana stile questo è puro italiana stile eccolo qua va bene qui secondo me bisogna chiudere ancora un po perché c'è tanta roba qua troppa roba c'ha questa meridine ma chi l'ha fatta così eh non credo il signor era un omorigerato lui ecco guardate un po non è meglio così no eh come no è meglio questa questa è un'immagine presentabile giusto allora però vi devo dire anche una cosa qua vedete ma cos'è queste queste curve queste curve qua no 90 60 90 non va bene questo io direi che questo è anche un'offesa un'offesa generalizzata non possiamo no io la trasformerei un po io trasformerei questa meridine moro in una in una casalinga classica direi dopo 40 anni di matrimonio siete d'accordo io farei così allora guardate chiudiamo 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 questo modulo e cerchiamo un altro modulo che si chiama fluidifica questo questo fluidifica vediamo cosa possiamo fare con fluidifica beh io direi la prima cosa che possiamo fare è utilizzare l'opzione di gonfiamento giusto gonfia ecco qua gonfia e io direi che possiamo partire no così no così no magari Sergio Morito si rivolterà nella tomba no si rivolterà nella tomba si a Sergio Morito piacerebbe magari i maschietti che invece noi facciamo un'operazione contraria tiriamo giù un po' di sto seno un po' di sto seno facciamo la più magrolina tiriamola giù poi qua invece poi qui invece ecco l'allarghiamo un po' grazie Sergio allora guardate qua ecco vedete no dai come no dai sì certe casalinghe sono più hanno sono più in forma delle maestre sì è vero però ecco vedete quello che non funziona è proprio ecco così direi che no tiriamo un po' giù e anche i seni secondo me cadono un po' sì perché se fosse sarda non sarebbe in queste condizioni mischina direbbero fondi ok non è meglio ecco qua allora però c'è qualcosa notate che c'è qualcosa che non va collo di cigno non va bene e collo di cigno esatto collo di cigno brava eccolo qua collo di cigno ecco e poi viso il viso dobbiamo dare una sistemata al viso le ali di pollo alle braccia sì sì però adesso cominciamo a pensare al viso e sul viso abbiamo queste opzioni volto 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 cosa facciamo prendiamo il volto il volto e cominciamo direi cominciamo dal naso questo naso glielo allarghiamo un po' perché insomma ve lo faccio vedere meglio vedete stringiamo o allarghiamo io direi di allargare un bel naso camuso ci sta bene esatto e poi lo tiriamo un po' giù così vedete è già più italiano così poi vediamo gli occhi cosa si può fare prima di tutto li distanziamo un po' no questi occhi troppo stretti non vanno bene poi direi anche di aprirgli un po' anche ci veda bene perché a una certa età poi uno diventa un po' ciecato gli diamo un tocco ecco così un tocco orientale e poi apriamo un po' la palpebra e infine ecco aumentiamo un po' ancora la pupilla poi 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 vediamo un po' come possiamo ragionare alla bocca assomiglia molto di più a giusti in matera che si spaccia per sua soglia ecco la bocca vedete questa è la tipica bocca di merlin moro sposata dopo 40 anni che vede il suo marito qui non lo vede e qui lo vede non lo vede lo vede dice che schifo quindi diciamo che sta incontrando suo marito facciamo così e eccola apriamo un po' in segno di stupore no così se n'è andato marito è andato in ufficio marito torna a casa in ufficio e a casa così sorride troppo un po' più seria e infine ecco proprio così vedete anche schifo bene poi possiamo tornare a accusiamo il modulo altera e con il modulo altera ecco che possiamo dare la botta definitiva al viso direi un po' più lungo così il naso lo tiriamo un po' giù ecco qua anche i capelli sono troppo in ordine troppo in ordine troppo in ordine un po' di capelli bianchi esatto un po' di ricrescita va bene e poi insomma potete andare avanti e vedere che cosa potete fare ma potete fare delle cose incredibili e questo è la nuova meraviglioso è il nuovo sex symbol degli anni 2020 e non è male è vero sì no 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 è molto meglio rispetto allora con adobe photoshop fix e noi in in realtà possiamo creare applicare tutta una serie di correzioni di possiamo modificare un'immagine come ci pare questo è un bel giochetto da fare molto divertente passiamo adobe photoshop fix mix cioè questo le caricature si potete fare beh quella che vi ho fatto vedere prima era una caricatura quindi voi potrete prendere un volto fare degli scatti anche in classe o anche a distanza e poi disegnarvi le caricature vi faccio vedere poi come possiamo usare questo sistema della caricatura attraverso adobe draw vediamo invece che cosa possiamo fare con adobe photoshop mix allora io ho preso una fotografia una fotografia qualsiasi alberto scusa ma noi certe foto che troviamo in rete le possiamo trasformare si possiamo prenderle trasformarle oppure lo potete fare se sono fotografie che ve lo consentono se voi cercate sì però voi tenete conto che tutte le immagini all'interno di wikipedia possono essere utilizzate liberamente poi vi insegnerò dei trucchi caso mai se me lo ricordate poi non oggi ma possiamo fare una piccola spiegazione su come si utilizzano questo in questo caso sono immagini mie su mie fotografie quindi posso usarlo ovviamente come mi pare allora qui abbiamo questa ragazza che guarda fuori e prima ci siamo divertiti ci siamo divertiti così modificando un'immagine proprio per scopo di divertimento qui invece realizziamo vogliamo cominciare una procedura per realizzare una fotografia foto staccato graphic è interessante quello che è la posizione di questa ragazza seduta così e guarda fuori da questo battello e vorrei riprendere solo la sagoma di questa ragazza e togliere tutto il resto perché voglio creare un fotomontaggio allora come facciamo qui sotto abbiamo l'opzione sagoma l'opzione sagoma presenta diverse opportunità per esempio una funzione automatica la vedete la prima che viene proposta auto e abbiamo già un buon risultato perché auto lui capisce che l'immagine composta da due parti una figura umana e un ambiente quindi presuppone che a noi interessi la figura umana però ritorniamo alla posizione iniziale perché voglio farvi vedere altri strumenti l'altro strumento che possiamo utilizzare si chiama smart è questo con smart noi operiamo in questo modo utilizziamo sempre la penna e ripassiamo sulle parti dell'immagine che vogliamo preservare e quindi verranno automaticamente escluse tutte le parti che non sono evidenziate dalla penna il cappotto ecco direi che ci siamo adesso dobbiamo però sistemare un po' le cose perché se voi notate qui questa parte qua questo nero e queste seghettature così non vanno bene tra l'altro notate quello che vi dicevo rispetto ai pixel dell'immagine vedete che questa è un'immagine ad alta qualità quindi si vedono poco i pixel però se io l'allargo qui l'ho allargata molto l'avrò allargata 30 volte la vedete i pixel invece in un'immagine tipo vettoriale questo non capita per i motivi che vi spiegavo ieri allora come facciamo abbiamo un altro strumento che si chiama lazzo con il lazzo semplicemente cerchiamo di riprendere il contorno ah scusate prima vedete che sulla parte di sinistra abbiamo due opzioni aggiungi nel caso in cui vogliamo aggiungere degli elementi che non sono compresi e sottrai per togliere invece elementi indesiderati quindi dobbiamo scegliere sottrai ovviamente scegliamo sottrai e cerchiamo di ripassare lo facciamo un po' per volta ecco diciamo che è più accettabile questo risultato poi torniamo su aggiungi torniamo a smart perché voglio capire qua i capelli se possiamo riprendere alcuni dettagli anche qua e sempre da smart possiamo usare l'opzione sottrai per farvi vedere come possiamo compiere l'operazione di prima senza il lazzo con il lazzo possiamo possiamo scegliere proprio diciamo dei dettagli ed essere molto precisi sui contorni invece con l'opzione smart sottrai lavora su un insieme di pixel simili e quindi non lavora più su un'area ed è lui che interpreta i pixel adesso vogliamo vogliamo fare in modo che il contorno di questa immagine sia più morbido allora dobbiamo cercare l'opzione migliora che è questa in basso l'opzione migliora consente di creare una sfumatura vedete una sfumatura che può essere più ampia o più piccola e possiamo anche decidere di arrotondare i bordi e quindi abbiamo creato un'immagine un po' più flu lo vedete nei suoi contorni bene possiamo andare avanti ovviamente a precisare meglio questo lavoro ecco vediamo che cosa abbiamo fatto con aracne con aracne abbiamo utilizzato l'opzione smart anzi auto inizialmente l'opzione auto l'opzione auto è buona perché isola gran parte della figura e poi con la funzione smart abbiamo ripescato gli elementi specialmente gli elementi di contorno e le parti del vestito che non sono state riprese che sono queste quindi vedete che abbiamo un buon risultato poi abbiamo utilizzato l'opzione sottrai poi abbiamo utilizzato l'opzione lazzo sottrai notate che questa non è un'immagine di buona qualità vedete che anche con un piccolo ingrandimento guardate che cosa succede è proprio una pessima immagine però sembra che all'epoca non ci fosse niente di meglio e quindi poi sempre con la funzione migliora un pochettino di sfumatura rende più morbidi i contorni e quindi ecco che abbiamo un'ottima figura da poter montare in qualsiasi ambiente perfetto allora adesso che cosa facciamo notate intanto cosa volevo farvi vedere ah ecco notate che con questa fotografia abbiamo spostato la testa dell'uomo sulla testa del cane e viceversa tra l'altro questa foto ha una storia incredibile perché ero andato a Milano appunto per fare delle fotografie e avevo fotografato questo signore col suo cane molto british erano come posizione e e poi ho fatto questo fotomontaggio così e poi l'ho messo su Instagram e viene una mia allieva a scuola incredibile la cosa io insegno a Torino che mi dice prof ha fotografato mio zio a Milano voi pensate che combinazioni assurde milioni di persone una studentessa tu vai a Milano a fare delle foto e fotografi una persona e casualmente questo è lo zio di una tua allieva quindi ci siamo fatti un sacco di resate ecco vedete altre figure che sono state isolate questa la riconoscete è quella che guarda il cuore sullo sfondo giallo va bene che cosa facciamo quindi una volta che abbiamo creato la nostra figura che ci interessa ovviamente la salviamo all'interno del rollino qua rollino vedete che ci sono anche altre opportunità perché ehm avendo per esempio i creativi che lavorano poi con applicazioni anche da computer possono inviare direttamente questa immagine al a loro non lo so photoshop illustrator quello che stanno utilizzando sul computer magari sono in viaggio stanno facendo questo lavoretto mentre sono distanti centinaia di chilometri e se il computer è collegato alla rete magicamente si apre l'applicazione di riferimento e quando arrivano a casa si ritrovano già pronta questa immagine per essere rielaborata con strumenti più complessi questo per ritornare al discorso che vi facevo prima che non sono applicazioni create per giocare o per insegnare anche se in realtà sono molto utili per questo scopo allora adesso lavoriamo con Adobe Draw che è questa applicazione che abbiamo visto anche ieri quindi sapete già tutto sui livelli e su come si utilizza e vediamo che cosa possiamo creare con la ragazza che guarda fuori dal finestrino allora prima di tutto dobbiamo scegliere il formato e pop pop io direi un formato widescreen perché perché anche la fotografia era widescreen e lei guardava fuori e guardare fuori diciamo in un ambiente quadrato o schermo standard secondo me non dà una prospettiva vediamo che cosa succede ragioniamo sto operando con voi anch'io per la prima volta con questa immagine quindi andiamo a ruota libera che cosa devo fare allora intanto dobbiamo cercare di immaginare come questa ragazza potrebbe essere collocata e quindi la dobbiamo importare attraverso la creazione di un livello immagine livello immagine nell'iPad ovviamente eccola qua è questa possiamo ingrandirla o rimpicciolirla io direi che rispetto alle dimensioni dello schermo noi potremmo collocarla qua potrebbe andare bene così bene 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 che cosa possiamo fare io farei così dunque passo al livello di disegno quindi non tocco assolutamente l'immagine della ragazza e disegno sotto di lei in modo tale che lei sia sopra appaia sopra l'immagine perché vedete è accomodata da qualche parte e cosa mi viene in mente di fare mi viene in mente di disegnare una luna vediamo un po' la ragazza potrebbe essere accomodata su una luna vediamo 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 se ci possiamo aiutare con dove sono ecco qua se ci possiamo aiutare con questi strumenti per esempio per esempio questo lo allargo lo allargo lo allargo lo metto qua così vedete vedete che c'è un cerchio non so se lo vedete perché è un grigio un po' chiaro però con questo cerchio io posso disegnare tranquillamente un contorno e poi chiudo il cerchio è interessante questa cosa vediamo se adesso faccio così se faccio così ho sono andato troppo giù così vediamo interessante funziona funziona però devo aggiustare la ragazza quindi per aggiustare la ragazza vi ricordate vado al livello della ragazza trasforma e la porto più su così ecco la facciamo accomodare così tres interessants allora dobbiamo tappare prima di tutto dobbiamo spostare non me ne sono accorto ma il livello era quello superiore quindi lo sposto semplicemente sotto la ragazza vedete che così il suo le sue gambe il suo capottino passano in secondo piano ecco lo voglio portare un po' più avanti così in modo da nascondere questo la facciamo appoggiare un po' anche inclinata con due dita faccio un pitch per posizionarla forse ancora un po' più appoggiata direi così 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 è troppo anche se non è male così vediamo comunque bisogna provare e vedere mi sembra che questa posizione sia buona allora abbiamo un problema perché torniamo al livello della luna il livello della luna presenta un buco qui che noi dobbiamo chiudere lo chiudiamo un po' grossolanamente così questo è chiuso però facciamo un altro tratteggio ecco perché perché adesso noi possiamo riempire la luna vediamo un po' se ci conviene anche riempirla non lo so facciamo una prova però intanto ripassiamo quello che abbiamo imparato ieri quindi scegliamo un colore la luna è bianca però in questo caso potremmo usare una specie di perla vediamo sì potrebbe essere perché immaginando di creare uno sfondo uniforme va bene vediamo un po' che cosa succede adesso dobbiamo stabilire che cosa guarda la ragazza che cosa guarda la ragazza allora vediamo un po' la ragazza potrebbe guardare aggiungiamo io ho preparato qualche immagine qualche fotografia per vedere un po' ecco potrebbe guardare un paesaggio questo potrebbe guardare non so una specie di quadro potremmo metterlo qua o qua forse meglio qui è tutto da vedere ovviamente però questa immagine la teniamo sotto anche il livello della luna potrebbe funzionare una cosa così bisogna creare un altro livello di disegno perché vorrei creare un contorno un contorno a questo ops non ho bisogno di aiuto grazie allora vediamo un po' abbassiamo lo spessore no facciamo così aumentiamo lo spessore prendiamo una forma qua visto che è più facile prendiamo una forma e facciamo così allora colloco la forma qui in modo tale che possa fare questa operazione uno e poi due e la linea viene tracciata perfettamente dritta poi porto su per fare un'altra angolatura così e traccio un'altra linea e poi butto via non è male così non è niente male interessante però però non mi convince questa foto perché lei guarda un paesaggio ma in realtà sarebbe molto più interessante se lei guardasse qualcosa d'altro allora facciamo così prendo questo livello riduco l'opacità al 100% non lo voglio cancellare perché può darsi che ritorni sulle mie idee quindi creo un altro livello questa volta immagine e nell'iPad cerco qualche cosa vediamo un po' per esempio questa immagine guardate questa dà una prospettiva interessante no non mi piace allora livello immagine nell'iPad vediamo questa vediamo questa potrebbe essere così vediamo un po' la rifiliamo vedete che sotto ci sono le operazioni di rifilitura perché la facciamo no così non mi piace non la posso tagliare però come mai non la posso tagliare non mi ricordo così potrebbe andare così vediamo che non mi ricordo questa opzione come funziona vediamo un po' trasforma trasforma fa questa operazione non mi piace mi dispiace prova a chiedermi qualcos'altro alexa taci questa la devo modificare alla fonte vediamo un po' dov'è questa così dovrebbe essere e quindi ritorniamo al nostro draw questo lasciamo perdere creiamo il nostro livello immagine ovviamente potevo anche modificare il quadro ma in ogni caso lo volevo in un formato widescreen così così o così ecco anche qua allora così funziona l'abbiamo inserita sotto il riquadro va bene però per non buttare via tutte le linee che abbiamo creato facciamo così perfetto quindi con l'opzione tornando al livello di riquadro con l'opzione cancella cancelliamo questa linea e poi riprendendo il nostro strumento rettangolare ecco qua riprendendo il nostro strumento rettangolare vabbè conviene allora rifacciamo sta cosa rifacciamo lo che facciamo prima quindi strumento rettangolare facciamo le due così e poi ci spostiamo di lato per realizzare questa cornice c'è qualche c'è qualche aggiustamento da fare riduciamo al minimo la dimensione della gomma per poter per poter lavorare con più precisione ecco adesso cosa vogliamo fare io direi di inserire uno sfondo quindi uno sfondo monocromatico e quindi fare così andrei all'opzione sfondo imposterei un colore potrebbe anche essere un bel azzurro per esempio così vediamo allora come possiamo fare per inserire un colore di sfondo siccome l'opzione di riempimento funziona all'interno di un'area qui non abbiamo un'area non c'è un'area qua perché non ci sono bordi quindi dovremo creare dei bordi e poi riempire però questi bordi li creiamo fuori così grossolanamente tanto non vengono ripresi poi dall'immagine quando la registriamo nel rollino e a questo punto possiamo riempirla e quindi questo è il risultato un risultato che non mi piace molto devo dire quindi non importa possiamo cambiare colore vorrei cercare un azzurro un po' più brillante per esempio questo e dobbiamo andare avanti e cercare insomma la soluzione più adeguata un giallo potrebbe stare veramente bene vediamo questo mi piace di più non lavorerei troppo sulla luna facciamo una prova per vedere che cosa succede quindi passiamo al livello della luna e vediamo se per esempio con possiamo inserire un azzurro nella luna insomma c'è da lavorarci però diciamo questo è un primo risultato per mostrarvi che cosa noi possiamo fare con questa tecnica della photo graphic e salviamo l'immagine la registriamo all'interno del nostro rollino e poi il risultato sarà questo è tutta da lavorare per esempio toglierei la cornice nera all'immagine magari la sposterei più di lato insomma però è una base direi che è una base di partenza una base di partenza così evocativa forse metterei l'uomo più lontano più piccolo e più lontano toglierei la cornice un po' di lavoro però la tengo la tengo e ci lavoro su nei prossimi giorni perché mi piace l'idea mi piace molto l'idea e quindi ci lavoreremo adesso usiamo sempre Adobe Draw per lavorare sulla caricatura quindi creiamo un nuovo ambiente questa volta quadrato perché parliamo di una caricatura di un volto e dobbiamo sempre creare un livello immagine un livello immagine prendiamo quello del nostro ministro allora abbiamo questa è una caricatura eccola qua è una caricatura fotografica evidentemente la vogliamo trasformare in un disegno che facciamo noi però non con i filtri automatici che si trovano in diverse applicazioni allora facciamo così prendiamo il livello di disegno che è qui sotto il livello immagine e lo portiamo sopra il livello immagine poi prendiamo il livello immagine e riduciamo l'opacità fino a questo punto direi e dopodiché scegliamo il nostro pennello riduciamo un po' così potrebbe andare e cominciamo a lavorarci su quindi per esempio facciamo così si vede che è un tratto a mano libera quindi deve vedersi questo perché è un disegno che facciamo noi dobbiamo tenere chiusi vi ricordate sempre tutti dobbiamo tenere sempre tutti i buchi ecco chiudere tutte le forme non so se ho chiuso bene la pupilla ma poi ingrandiamo e aggiustiamo chiaramente ops a me sembra sapete la carica di 101 schiarimovie sembra schiarimovie a me sembra crudeglia demon ve la ricordate crudeglia 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 demon sei più cattiva di un beone no com'era non mi ricordo ecco qua dobbiamo chiudere qui lo chiudiamo no 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 vediamo un po' come ah ecco c'è tutto questo spazio quindi io riprenderei la curva così ecco qua dunque adesso chiudiamo l'opacità zero e vediamo che cosa dobbiamo fare qua beh dobbiamo chiudere qui in qualche modo qui anche e qui anche così poi vediamo se è tutto a posto qua c'è un buco qui c'è un buco poi qua c'è un buchetto beh mi sembra che ci siamo quindi cominciamo a fare i capelli siamo sul nero quindi premiamo da capelli neri poi viso rosa viso rosa collo anche bene poi rossetto rosso come piace a lei un bel rosso come questo così bocca rosa ah già dobbiamo riprendere il rosa vi ricordate abbiamo il lentino ehi ehi beh troppo ah no l'ha fatto non me ne ho accorto poi vediamo un po' ciglia ciglia un po' ciglia un po' colorate facciamo dai diamo un tocco surreale ecco qua e poi il bianco il bianco lo facciamo vediamo un po' cosa succede se lo facciamo un po' grigio e bianco forte e però le rendiamo un po' di giustizia con i classici occhi azzurri e poi c'è il puntino nero questo puntino vedete che io allargo l'immagine finché voglio e e non vedo pixel lo vedete guardate qui la sto qui la sto ingrandendo di 70 80 volte guardate che roba immagine vettoriale come vi ho spiegato ieri ecco qua ovviamente ovviamente con questa tecnica noi possiamo creare le nostre stesse caricature i nostri stessi basta basta farsi un selfie basta farsi un selfie e creiamo tutto quello che cosa creiamo creiamo i personaggi di una storia vi insegnerò a partire da lunedì a lavorare con le immagini per creare degli storytelling vedrete che sarà fantastico quello che imparerete nelle prossime due settimane in questo quadro vi insegno cose straordinarie sulla creazione di storytelling con immagini quindi ecco che abbiamo imparato una serie di tecniche che ci possono essere utili per proprio queste funzioni va bene sì benissimo benissimo grazie ci vediamo lunedì lunedì abbiamo un mini webinar così la mattina e poi quello importante però è quello del pomeriggio ok va bene ciao buona domenica buona domenica buona domenica